Ciao ragazzi, oggi sono molto contenta di farvi conoscere la mia amica Antonella che oggi è all'ultimo step, ha messo i definitivi ieri e oggi e più felice che mai. Ciao carissima, dimmi che lo fai, come ti senti? Sto benissimo, ho proprio una felicità, non si può spiegare. Tu ora sei all'ultimo step, però io voglio proprio parlare di come hai iniziato il tuo percorso e più che altro chi è Antonella Mulana e quali sono le sue passioni. Iniziamo da questo, dimmi un po'. Passione di che cosa? Di cosa ti piace fare? A me piace fare i dolci. I dolci? Quindi per questo che hai perso i denti? No, io li faccio ma non li mangio. Quindi sei una pasticcera? Sono una pasticcera, sì. E quando sono iniziati i tuoi problemi con i denti? I miei problemi sono iniziati dieci anni fa con dei lavori malfatti in Italia perché comunque sono stati lavori malfatti e quindi poi... Cosa avevi? Non so, perché di solito la gente perde i denti... Allora, io avevo fatto già un impianto in Italia che mi è durato forse due anni, quindi ho fatto male, poi avevo dei ponti che comunque sono tutti... avevo tutta una bocca che è andata malissimo e quindi la mia preoccupazione era il sorriso perché comunque a contatto con la gente, con i clienti, insomma io ho un contatto pubblico e poi ultimamente non sorridevo più, avevo sempre la bocca chiusa. Veramente? Sì, sì. Nonostante eri sempre in contatto con la gente? Veramente, cioè cercavo di parlare e sorridere sempre meno perché comunque mi vergognavo anche di questa bocca. Come ti sentivi? Un po' persa. Perché è difficile, immagino. È difficile, poi insomma anche i soldi, bisogna... Ci sono anche le spese che comunque ti portano, però poi ho deciso, ho detto basta. Devo raggiungere il mio obiettivo. Dimmi un po', come si vive senza sorridere? Male. Quali sono le mie sorrisi? Male, sei sempre a disagio, hai sempre paura che ti guardi in un modo... Si vive male, quindi io consiglio a tutti di venire soprattutto qua in questo Polifimico perché siete veramente delle persone grandi, grazie a Dottor Palmas e tutte le persone, tutto il personale, tutti siete proprio veramente delle persone speciali. Ci fa tanto piacere. Dimmi un po', quando sei arrivata qui a Sostrismo Dentale, con che tipo di problema sei venuta? Non so, hai fatto una rivoluzione totale. Allora, io sono venuta qua, avevo i denti che mi cadevano, cioè avevo proprio i denti... questi che avevo qua davanti, cioè... Ti cadevano proprio? Mi cadevano proprio, sì sì. Come facevi a mangiare, a parlare? Mangiavo con quei pochi che mi sono rimasti, però insomma... quindi poi ho preso una decisione, no, devo andare, devo partire. Quando è stato questo momento in cui hai deciso, basta, mi cambio la vita? Questo momento è stato nel 2019, poi ho contattato la clinica, insomma, mi sono proprio... Dottor Palmas, che è mio conterraneo, quindi anche la fiducia, nel senso, cioè una persona che comunque è della mia terra, perché oggi è anche difficile partire così allo sbaraglio in una clinica, dopo che poi ho avuto... dopo che poi ho avuto dei problemi, già... e quindi... però sono venuta con molta... ero felice di venire qui, nel senso che poi ho visto tutte le... sul gruppo, tutti dicevano venite, venite... e quindi ho deciso. Si è affidata? Mi sono proprio affidata, sì. Ma prima di venire qui hai cercato, non so, ma vedi di fare qualche altro preventivo? Allora, sì, sono andata a fare un preventivo dal mio dentista, quello che mi ha rovinato la bocca, e mi ha chiesto 37.000 euro solo per l'arcata superiore. Solo per un'arcata 37.000 euro? 37.000 euro. E quindi... E gli ho detto di no. E poi sei venuta a sapere della nostra clinica? Poi ho frugato sul telefono, ho venduto il palmas qui, dato il palmas là, allora ho visto tutte, insomma, tutti i gruppi, ciò che scrivevano, e poi mi è venuta proprio questa... Ho detto sì, devo andare. E così è stato. La tua prima esperienza qui com'è stata? Bellissima. Sì. Bellissima, appena sono arrivata, sono stata seguita bene, avevo un po' di paura, però io sono anche una persona molto forte, quindi ho fatto i primi interventi. Che tipo di lavoro hai fatto? Mi hanno fatto il rialzo osseo, tutte le arcate, mi hanno tolto tutti i denti e quindi mi hanno rifatto tutti gli impianti sia su che giù, perché il dottor Pablo mi ha detto non faccio i coperchi senza le pentole, o le pentole senza i coperchi, al contrario. Anche qui hai speso per un'arcata 37.000 euro? No, quindi ho speso 12.000 euro. Quindi ti puoi fare ancora tre volte? Sì, ma anche con i biglietti, con i via, esce tutto, cioè in Italia è impossibile curarsi, ma poi io penso che non sia all'avanguardia come qui da voi. Dimmi la cosa magari che, non so, ti è piaciuta di più, oppure sia qui nella clinica che è proprio nella tua esperienza qui in Moldavia? Ma devo dire che non c'è una cosa che mi sia piaciuta, mi è piaciuto tutto. Non c'è un qualcosa che sono stata seguita, sono molto contenta, perché comunque anche col paziente c'è un grande amore, c'è una grande sensibilità. Ecco, questa è la cosa bella di un paziente quando viene a curarsi, è trovare anche il chirurgo che mi ha curato, Eugenio, poi, se non voglio fare, è una persona specialissima, nel senso che è molto preparato nel suo lavoro, molto scrupoloso, proprio veramente, ma poi tutti, dai. Sono contenta, dimmi un po', come ti sei trovata con i provvisori? Ci sono tantissime persone che magari hanno proprio questo timore? Io con i provvisori sono stata benissima, ho mangiato per due anni e mezzo tutto. Di tutto e di più? Tutto e di più, veramente, lo dico sempre, io ho mangiato benissimo, sono stata benissima, non ho avuto nessun problema quando sono tornata a casa, veramente è tutto ok. Ti sei vista cambiare? Sì. Come? Oggi sono molto più serena, riesco a sorridere, che è il mio, io sono molto solare, una persona molto solare, quindi ho ritrovato l'antonella che avevo perso tanto tempo fa. Tanto tempo fa? Sì. E com'è ritrovarsi? Bello, inspiegabile, io stanotte non ho neanche dormito, ho dormito pochissimo perché ero felicissima di questo lavoro, di questi denti nuovi, di questo bel sorriso, insomma. Perché tu gli eri messi definitivi? Sì. Vero? Sì. Come hai la sensazione di sapere che basta, posso sorridere, sono solare perché si vede, guarda, stai quasi piangendo, si vede male l'acqua negli occhi. Sono molto felice, veramente, e quindi ripeto, io dico a tutti, il sorriso alla medicina migliore, per tutti, sì. Dimmi, ma la tua famiglia, come ti ha vista cambiare? La mia famiglia, quando io sono rientrata a casa con i provvisori, hanno visto una persona diversa, una persona, la persona che io ero prima e quindi felicissimi anche loro di questo questo mio percorso. Come ti hanno descritto? Nel senso, se dobbiamo, non so, dividere la tua vita prima di sostenere il suo storismo dentale e dopo, dimmi come era l'Antonella allora e com'è l'Antonella ora? L'Antonella ora è felice, felice di poter sorridere, di poter sorridere in famiglia, di poter sorridere con tutti, è inspiegabile questa cosa, è bellissimo, non troverai neanche le parole, è una cosa meravigliosa. Infatti, forse è la più grande soddisfazione che possiamo avere noi, vedere questi occhi che brillano di felicità, che sono veramente contenti. Hai incontrato il dottor Palmas, hai visto la cosa che ho speso? Sì, ho incontrato il dottor Palmas, abbiamo preso un caffè insieme, beh. Dimmi un po', è la prima volta che l'hai incontrato? No, l'ho incontrata anche un'altra volta. Sei stata una delle nostre pazienti, diciamo, fortunate che l'ho incontrata. Sì, 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 l'ho incontrata, però mi ha visto e mi ha riconosciuta perché comunque abbiamo preso un caffè insieme e mi ha detto di stare tranquilla. Sì, infatti lui ci ha detto che dobbiamo intervistare Antonella perché è una persona molto solare, molto bella. E tra l'altro, se dovessi ritornare indietro, faresti il percorso che l'hai fatto? Sì, sì, lo farei mille volte. Perché? Perché mi è piaciuto tutto. Ma della Moldavia? Dimmi un po', della Moldavia, non so, come ti è sembrata? No, la Moldavia mi piace, devo dire la verità. Ti piace? Sì, tranquillo, bellissimo, sì, mi piace, molto tranquillo. Un'altra domanda ora che mi è venuta in mente, come hai curato i tuoi provvisori per due anni e mezza? Allora, con gli scovolini ho passato qualche filo interdentale perché comunque avevo degli spazi che erano aperti, quindi riuscivo a... no, no, io ho curato, anche io fumo. Però mi sono ripromessa che rientrando a casa si metterò di fumare, giuro. Ho perlomeno qualche sigaretta con la sigaretta elettronica, perché comunque anche il fumo e tutto l'insieme. Questa esperienza ti ha fatto cambiare così? Sì, adesso che poi ho definitivi ancora di più. Perché ci tieni? Sì, voglio... voglio una bocca accurata come adesso, adesso sempre, poi farò i controlli, verrò... tra l'altro quando ho trovato il mio dettaglio di andare a Buccarest, quando farò il controllo semestrale. Sì. E così farò. Come è? Ci sono tantissime persone che magari hanno questo timore di quando si parla di una riabilitazione estrema, che i denti non li senti come fossero i tuoi? Non è vero. Allora, io ieri ho messo i denti alle 17 e alle 20 ho mangiato un bel filetto di vitello con dello speck e della pancetta e i gusti bellissimo. Com'è questo piacere di mangiare? Bello, 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 bello. Infatti proprio ieri, quando mangiavo, dicevo, anche io ho pensato, perché quando leggo sul gruppo che sentono questi sapori, questo... assolutamente. Per me è stata una goduria il cenare e mangiare bene, masticare bene soprattutto e sentire sapori... sapori veri. Senti un po' come se fossi tornata indietro quando magari avevi i tuoi denti, vero? Sì, sì, sì. È stata una sensazione bellissima. Quando mi hanno messo quel piatto sul tavolo e ho iniziato a mangiare ho detto, oddio, sono ritornata a vivere. Bello. Ma qui hai fatto amicizia? Sì, io ho fatto amicizia con la signora Verdoscia al secondo viaggio a gennaio quando sono venuta. Patrizia? La nostra amica la salutiamo, se ci vuole. Ho fatto amicizia con Patrizia, ci siamo rincontrati a Bologna perché siamo stati insieme, anche abbiamo condiviso la camera stavolta e quindi sì, ho fatto amicizia. Bello. È stato bello. Ora vorrei farti fare un consiglio magari per tutti quelli che hanno ancora il timore di avventurarsi in questa avventura, in questa esperienza perché comunque è un gran passo e deve avere veramente tanta, a parte voglia, però la forza di fare questo cambiamento. Allora, io consiglio tutti i pazienti di venire qui in questo policlinico e curarsi perché a parte la professionalità non c'è da aver paura perché è tutto perfetto. quindi venite al policlinico di Dottor Palmas, SOS Turismo Dentale. Ok ragazzi, con noi è stata Antonella, una nostra paziente che ora torna in Italia con sorriso, li vedete gli occhi che brillano, è felicissima. Poi è una persona solare, sempre in contatto con la gente e da ora in poi sarà ancora più felice perché questo è quello che diamo noi, la felicità a tutti coloro che la vogliono. Quindi noi vi salutiamo qui da SOS Turismo Dentale e ovviamente faremo più spesso questo tipo di interviste che sicuramente vi piaceranno, vero? Ok, un saluto grande a tutti. Ciao! Ciao!